Per decenni è stato un punto di riferimento per i giovani tarantini ancora sprovvisti di cellulare che si incontravano in centro. Sabato 13 agosto 2016 i grandi magazzini Coin abbasseranno per l'ultima volta le saracinesche in via di Palma. Un'altra storia di crisi del capoluogo ionico. Già una decina di anni fa Coin era pronta a fare i bagagli e andare via da Taranto, cosa poi non accaduta grazie alla serietà della multinazionale e al buon esito di lunghe trattative con i sindacati. Col tempo però il fitto troppo oneroso, circa 130 mila euro all'anno e il continuo precipitare dell'economia locale e nazionale hanno portato la società a compiere la mara scelta. Al posto di Coin, che resterà comunque nel gruppo e che manterrà il reparto casalinghi, arriverà OVS. Coin era un'istituzione a Taranto per i giovani e quindi un pezzo di storia che va via. Noi abbiamo, solo per salvare l'immagine, abbiamo chiesto che l'insegna Coin rimanesse proprio per i giovani e magari mettere un insegna più piccolo come OVS, considerazione che i casalinghi sopra rimangono. Hanno detto che vedremo se poi OVS lo permetterà. Nessuna ripercussione dal punto di vista occupazionale. L'occupazione sarà tutta quanta rioccupata, tranne che 4 o 5 che comunque usciranno con prepensionamento oppure andranno in mobilità in altri siti nella provincia di Taranto, quindi diciamo in linea di massima l'occupazione salva. Dal 14 agosto quindi e per quattro settimane si procederà alla ristrutturazione dei locali e alla riorganizzazione dei vari reparti sotto l'insegna OVS.